Jean-Claude Juncker prova a infilare la quinta. Dopo essere stato costretto a dimettersi a luglio a causa dello scandalo legato ad attività di spionaggio illecite da parte dei servizi segreti, è intenzionato a ottenere il mandato da Premier numero 5. La mia speranza è che i risultati siano in linea con quelli delle passate elezioni e di quelle prima ancora. Vedremo stasera come gli elettori avranno distribuito i propri voti. Ha ambizioni di diventare presidente della Commissione europea? No, no, ho chiarito assolutamente di non avere ambizioni a Bruxelles. Spero che il mio futuro sia qui. Lo saprà a breve, le urne sono chiuse dalle due e i risultati sono attesi in serata. Il suo governo è caduto perché al partito cattolico di Juncker è venuto a mancare il tradizionale appoggio dei socialisti, ma i più fieri oppositori del Premier sono stati i liberali del partito democratico. Se ripenso alla campagna che abbiamo fatto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, credo che la gente stia davvero aspettando un cambiamento in Lussemburgo. È quello che desiderano da queste elezioni. Alle urne sono stati chiamati in quasi 240.000 per rinnovare un Parlamento costituito da 60 deputati. Il partito cristiano sociale di Jean-Claude Juncker ha governato il Lussemburgo quasi ininterrottamente negli ultimi 60 anni, ma questa volta, secondo gli analisti, le elezioni si preannunciano davvero sul filo di lana. Grazie a tutti.